Buongiorno cari amici, una nuova giornata sta per cominciare ed allora scopriamo come sarà con le minime e le massime astrologiche segno per segno. Cominciamo dall'ariete, stazionario. Con il partner cercate di riparare ad una gaff e se necessario chiedeteli scusa, saprà capirvi. Saranno giornate un po' convulse ma non meno divertenti. Se ne avete la possibilità girate per i mercatini natalizi. Toro, variabile. Nella vita di coppia all'inizio faticherete ad ingranare, meglio partire da un interesse comune. Basterà ritrovare anche solo un punto d'accordo per far ripartire il dialogo. Poi troverete anche il coraggio per fare delle scelte innovative. Gemelli, clima caldo. Sentite il partner più vicino che mai e ne ricavate nuova sicurezza e tanta voglia di vivere. Se invece aspettate una dichiarazione che tarda ad arrivare, perché non andate all'attacco e non parlate voi per primi, buttatevi. Cancro. Si attende il bel tempo. Mettete da parte la timidezza ed aprite il vostro cuore. Avrete molte sorprese. Inutile però farsi prendere la mano dalla malinconia e dal ricordo di chi ora non fa più parte del vostro presente. Leone, nuvoloso. Il timore infondato di non essere ben accetti potrebbe rovinarvi il fine settimana, se non fosse per l'entusiasmo di chi vi sta a fianco, che riuscirà a farvi riprendere fiducia in voi stessi. Vergine, brezza. L'influenza positiva dei pianeti vi aiuterà a mantenere buoni rapporti con tutti e riuscirete ad alleggerire una situazione pesante che si trascinava da parecchio tempo. Per molti di voi potrebbe esserci un viaggio improvviso. Bilancia. Schiarite finalmente. Mettete da parte i vecchi rancori con un familiare e cercate di recuperare il dialogo. Tutto tornerà come prima. Nel rapporto di coppia la sessualità sarà appagante e anche fantasiosa. Passerete insieme dei bellissimi momenti. Scorpione. Mari molto mossi. Dinamismo ed intraprendenza che vi porteranno alla ricerca di nuovi interessi. L'unico rischio è quello di impegnarsi su troppi fronti, saltando da una cosa all'altra senza concedervi il tempo di apprezzarne e di averne dei risultati. In amore siete affascinanti ma troppo indecisi. Sagittario. Venti in rinforzo. Utilizzate le vostre energie positive nella vita sociale e nel rapporto con il partner. Grandi soddisfazioni vi aspettano e vi mettono di buon umore. Un buon libro conclude degnamente la giornata. Capricorno. Climamite. Forse avevate perso la speranza che una certa persona si facesse viva e invece avrete la bella sorpresa di ritrovarvela davanti, sempre più decisa ad andare fino in fondo con voi. Accettate la sua compagnia. Acquario. Sereno. Un gesto affettuoso, un sorriso in più, vi attireranno la gratitudine del partner e vi faranno iniziare la giornata nel migliore dei modi. Concedetevi reciproca libertà per seguire ciascuno i suoi interessi personali. Ed infine pesci. Cielo limpido. Comunicate chiaramente le vostre idee al partner senza mezzi termini. La vostra sincerità sarà notevolmente apprezzata. Siate oculati nelle spese. Buona musica, buone letture, buoni sapori vi renderanno la vita migliore. E questo per noi era l'ultimo segno. Io vi auguro un'ottima giornata in compagnia dei programmi di Antenna Sud. Arrivederci.